Le fonti Fast Finance, il nostro appuntamento dedicato all'approfondimento di notizie che riguardano il mondo dell'economia e della finanza in modo semplice, veloce e schematico. Bentrovati a tutti voi e una sicuramente delle notizie principali del periodo, oltre al coronavirus, il grande macrotema è il DPCM, quindi le nuove norme, il nuovo provvedimento messo appunto dal governo, ma soprattutto il decreto Ristori, il decreto che serve per dare aiuti a tutte le attività commerciali che hanno ricevuto un pesante stop delle loro abitudini, delle loro attività quotidiane, proprio a causa delle restrizioni anti-Covid messe appunto dall'esecutivo. E allora noi vogliamo, perché sono tanti punti da tenere a mente, vogliamo insieme a voi ripercorrerli per capire di cosa si tratta. Ci aiutiamo con delle grafiche. Allora andiamo a vedere subito la grafica numero 1 che ci dà l'idea di quello che viene stanziato proprio per il decreto Ristori. 5,4 miliardi di euro di indebitamento netto, 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinate alle attività economiche proprio interessate dalle restrizioni. Quindi quelle che sono state colpite maggiormente, sia direttamente che indirettamente. Andiamo dunque a vedere, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, che cosa è stato stabilito. Questa è una parola chiave, fondo perduto, i contributi. Allora, le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal precedente decreto, il decreto rilancio. Attenzione perché la platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro. Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usuflito precedentemente dei contributi, mentre è prevista poi l'erogazione automatica sul conto corrente per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza. Andiamo avanti con un altro punto, si parla di proroga della cassa integrazione con un intervento da 1,6 miliardi complessive. Vengono disposte ulteriori sei settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario. È stata prevista, viene prevista anche una liquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione del fatturato. Inoltre, anche questo è un punto importante, la cassa è gratuita per tutti i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% per chi ha avviato l'attività dopo il 1 gennaio 2019 e per le imprese che sono interessate dalle restrizioni. Altro punto a favore, per così dire, delle imprese che sono state maggiormente penalizzate è l'esonero del versamento dei contributi previdenziali. Quindi viene riconosciuto questo, andiamo a vederlo con la nostra grafica, a tutti i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid per un periodo massimo di quattro mesi. Attenzione perché questi contributi sono fruibili entro il 31 maggio dell'anno prossimo del 2021. Andiamo avanti, è stata cancellata la seconda rata dell'Imu. Altro punto a favore. Eccola qui, per chi, naturalmente, per tutte le categorie interessate dalle restrizioni. Un settore che è stato particolarmente colpito non solo da questa nuova ondata di Covid-19, ma dalla precedente, dalla prima grossa ondata, quindi un settore che probabilmente davvero non si è ancora ripreso e che farà più fatica a riprendersi, è quello dello spettacolo. E allora, ci sono anche delle norme previste per i lavoratori dello spettacolo e non solo, anche del turismo. Perché lo sappiamo? Allora, che cosa succede? Intanto ci sarà questa indennità di 1000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti del mondo dello spettacolo. Inoltre, la proroga della cassa integrazione è l'indennità speciale, indennità speciali per il settore del turismo. Inoltre, ci sono dei fondi di sostegno proprio per i settori più colpiti, oltre a quelli già citati, il mondo dello spettacolo, del turismo, dell'editoria, il settore alberghiero o termale, l'export e fiere internazionali. Naturalmente, tutti quei settori che hanno più esposizione al pubblico, chiaramente, e che sono stati chiusi in precedenza, ma che sono stati chiusi o comunque limitati anche in questo momento. Andiamo avanti. Altro provvedimento che era già stato messo appunto dal governo e che viene confermato è il reddito di emergenza. Quindi, a tutti coloro verrà dato questo reddito, per chi ne aveva già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio, come stavamo dicendo, verranno erogate due mensilità del reddito di emergenza. Altro settore colpito, quello sportivo, e allora il governo ha pensato anche a chi lavora nello sport, è stata prevista, viene prevista, un'indennità da 800 euro. Eccolo qui, ulteriore indennità per i lavori del settore sportivo, che già avevano ricevuto le indennità previste dai decreti Cura Italia e Rilancio, e attenzione, questa è una novità, l'importo è aumentato da 600 a 800 euro. Rimanendo nell'ambito dello sport, parliamo non solo di quello professionistico, ma anche di quello dilettantistico. E allora, anche qui ci sono degli aiuti. È stato istituito addirittura un fondo ad hoc per 50 milioni di euro per il Dipartimento dello Sport, quindi per appunto chi lavora nelle società dilettantistiche potranno usufruire di questi fondi che vengono messi a disposizione dal Dipartimento per lo Sport. Un altro contributo, sempre a fondo perduto, va alle filiere, a tutta la filiera di agricoltura e pesca. E allora, la prossima grafica, eccola qui, è stato istituito un fondo da 100 milioni di euro per chi ha avviato l'attività dopo il primo gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020, quindi di quest'anno naturalmente rispetto al novembre dell'anno scorso del 2019. Condizio sine qua non, i capitoli dedicati proprio alla salute e alla sicurezza che non potevano non essere presi in considerazione. E allora, è previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza coronavirus. Stanziamento dei fondi per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l'istituzione del Servizio Nazionale di Risposta Telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività per tracciare naturalmente tutti i contagi. Altro e ultimo capitolo è quello dedicato alla giustizia e andiamo a vedere che cosa riguarda tutto questo. Il decreto ha previsto disposizioni per l'utilizzo di collegamenti da remoto per attività legate alle indagini preliminari e in ambito sia civile che penale alle udienze. Inoltre, semplificazione è una parola che serve al nostro Paese, del deposito di atti, documenti e istanze. Questi sono i punti principali previsti dal decreto Ristori, messo appunto dal Governo naturalmente per aiutare tutte le attività penalizzate dall'emergenza Covid-19 da questa seconda ondata. Grazie per averci seguiti, questo è Le Fonti Fast Finance.